Siete pronti a scoprire una delle città più famose e particolari d'Europa? Oggi una penna in valigia vi porta in Inghilterra per un tour di tre giorni tra modernità e tradizione. Visiteremo le attrazioni più famose e i quartieri più strani, ma non solo, perché ci saranno anche tappe magiche e attività molto particolari e golose. Vi ho incuriosito? E allora tenetevi pronti e preparate il passaporto perché si parte per Londra. Il nostro weekend inizia prestissimo perché alle 7 e mezza ci stiamo già imbarcando sull'aereo. Abbiamo infatti trovato un volo low cost da Venezia a Londra con soli 60 euro andato a ritorno. E in meno di due ore siamo già all'aeroporto di Gatwitch. Da qui basta prendere la navetta gratuita e il treno che ci porta a Victoria Station. Il viaggio è di circa mezz'oretta ma i collegamenti sono davvero molto frequenti, quindi vi ritroverete subito in città. E come prima tappa decidiamo di andare a fare gli onori di casa andando a salutare i reali. Qui alle 11 è possibile assistere al cambio della guardia, ma nel periodo invernale viene effettuato solo a giorni alterni e oggi è il giorno no. Perciò proseguiamo il nostro tour attraversando uno dei parchi più belli di tutta Londra. Sto parlando del San James Park, dove è possibile incontrare tantissimi animaletti, come scoiattoli e anche questi pellicani. La passeggiata in mezzo al verde è molto suggestiva e vi porterà fino a un altro simbolo della città di Londra, il Big Ben. Foto di rito vicino alla cabina rossa con il Big Ben sullo sfondo e poi ci avviciniamo a questa stupenda torre dell'orologio che suona ogni 15 minuti. Come potrete notare non ci si può avvicinare molto, ma la prospettiva migliore per ammirare il palazzo di Westminster è dall'altro lato del ponte e segnatevi questo posto perché è anche un ottimo spot fotografico. Qui infatti avrete lo sfondo del Big Ben completamente libero. Inoltre troverete questo lunghissimo muro ricoperto di cuori, un vero e proprio monumento dal profondo significato perché è dedicato alle vittime del Covid. A pochi passi da qui c'è anche il famosissimo London Eye, ma si è fatta ora di pranzo quindi facciamo tappa da Five Guys, uno dei fast food più noti ma non esattamente economico. Però potrete mangiare aracchidi a volontà. Dopo aver ricaricato l'energia ci spostiamo in un'altra parte della città. Vi avevo detto che questo sarebbe stato un weekend magico e infatti ci troviamo in una delle location che è stata utilizzata per girare il Big Ben di Twitter. Questo infatti è l'Edenhall Market, uno storico mercato vittoriano al coperto, meglio conosciuto dai fan di Harry Potter come Diagon Alley. Merita sicuramente una visita se siete di passaggio anche perché qui nelle vicinanze troverete anche la cattedrale di St. Paul e l'iconico ponte che è stato distrutto, ovviamente con effetti speciali, in uno dei film di Harry Potter. Allora ragazzi, volevamo visitare il Millennium Bridge ma purtroppo è chiuso per lavori di ristrutturazione. Comunque si ha ugualmente una bellissima vista sulla cattedrale di St. Paul che probabilmente visiteremo domani mentre oggi andremo a vedere la città dall'alto. Mentre siamo qui però ne approfittiamo per ammirare la cupola da questo spot fotografico e se ve lo state chiedendo siamo al One New Change che è anche una terrazza panoramica gratuita. Oggi purtroppo era chiusa ma poco male perché abbiamo prenotato i biglietti per uno dei punti panoramici più belli di tutta Londra. Sto parlando dello Sky Garden, un vero e proprio giardino ad alta quota con bar e ristoranti ma la sua vera chicca è questa terrazza. Ed eccoci ragazzi, siamo arrivati al 35esimo piano dello Sky Garden da cui si può pirare tutta l'onda e soprattutto la cosa interessante è che l'ingresso è gratuito. Da questa terrazza abbiamo una vista spettacolare su tutta la città e in particolare sullo Shard, un altro punto panoramico a pagamento e il Tower Bridge. È però importantissimo prenotare con anticipo e i biglietti escono ogni lunedì per le tre successive settimane. Quindi occhio al calendario perché finiscono in fretta. Dopo questo panorama ci spostiamo a Victoria Station per un'altra attività. Qui a Londra sono quasi le 5, è l'ora del tè e quindi ora vi porteremo a fare un'esperienza molto particolare. Siamo alla stazione del Hillman, Victoria, e ci aspetta quell'autobus là. Ogni giorno alle 17 infatti da qui parte questo autobus a due piani che ti permette di visitare Londra in maniera alternativa e super golosa. Come avrete capito ragazzi, non siamo al vero autobus, al vero siamo al nostro. Ma in questo modo potrete sosteggiare tè e mangiare pasticcini dolci e salati visitando i monumenti più importanti. Ah, e ovviamente potrete portarvi a casa la vostra tazza e una doggie bag. Buongiorno ragazzi, sono le 7 del mattino, noi siamo già studiati a due ore e ora andiamo in missione. L'obiettivo è quello di visitare gli interni di St. Paul senza pagare il biglietto. Noi alloggiamo in zona 8 Park e per raggiungerla ci serviranno una ventina di minuti di viaggio. Prendiamo quindi la metro fino alla stazione di St. Paul e dopo qualche minuto eccoci qui. I biglietti d'ingresso si aggirano tra le 23 e le 25 sterline, ma se volete entrare gratuitamente potrete farlo in alcuni orari. Per scoprire quali, controllate il calentario delle funzioni religiose. Posso solo dirvi che ne valsa davvero la pena. In tutto ciò però non abbiamo ancora fatto colazione, quindi ora ci spostiamo verso Victoria Station. Ebbè eccoci ragazzi a Victoria Station e qui abbiamo trovato una riproduzione del Big Ben in versione black. La nostra vera meta però è questo, uno dei locali più famosi sui social per i suoi fluffy pancakes. Vi avviso questo caffè è davvero piccolissimo, quindi vi conviene prenotare. Ed ecco ragazzi la nostra super colazione. Questo è il mio matcha color stesso. Le porzioni sono davvero abbondanti, infatti ne abbiamo divisa una in due. Inoltre potrai provare bevande calde e fredde davvero particolari. E dopo questa super colazione riprendiamo la metro per raggiungere il quartiere più strano di tutta Londra. Dove le strisce pedonali sono color arcobaleno e le insegne dei negozi sono vere opere d'arte. Ci troviamo a Camden Town. E addentrandoci nel quartiere troviamo questa via dello shopping super colorata. Dove è possibile comprare davvero qualsiasi cosa. Il negozio più originale però è sicuramente Cyber Dog e qui dovete assolutamente fare una tappa perché sarete catapultati nel futuro. Ci sono decine di robot, abiti dai colori più sgargianti e addirittura una discoteca. Se invece volete scoprire nuovi sapori il mercato di Camden è il posto perfetto. Qui troverete davvero di tutto dalla cucina locale a quella asiatica ma anche tantissime golosità. Noi pranzo completamente a caso perché la tipa ci ha buttato dentro di tutto ma ora assaggeremo. E una volta preso il vostro street food preferito potrete consumarlo in una di queste bolle. Sono a disposizione di tutti quindi cercate di accaparrarvene una. Questo è il mio momento in felicità. Concludiamo il pranzo con un corn dog tanto voluto dalla Steffi. E dopo la pausa cibo saliamo su questo pullman che ci porterà alla prossima destinazione a circa un'ora da Londra. Ed eccoci ragazzi agli Harry Potter Studios. Abbiamo i nostri biglietti e ora siamo carichissime per entrare. I Warner Bros. Studios sono davvero immensi e qui troverete tutti i set che sono stati utilizzati per girare gli otto film di Harry Potter. Si parte dalla sala grande ma poi si può esplorare tutto Hogwarts dai dormitori alle aule fino alla tenebrosa foresta proibita. Ma non è finita qui perché troverete anche diverse postazioni interattive come questa e potrete esplorare tutto il mondo magico dal ministero della magia a Diagon Alley incluso la famosissima Gringot. Gli effetti speciali vi lasceranno a bocca aperta. Il tour dura circa tre ore e vi permette di scoprire tutti i retroscena del film. Ma per queste e tante altre curiosità vi preparerò un video a parte. Allora ragazzi siamo agli Harry Potter Studios. Il marchio nero è dietro di me e io potevo non assaggiare la burro birra? Assolutamente no. Quindi eccomi qui. E vi dirò ha un gusto strano ma a me piace. Invece Stefania che si nasconde lei ha provato il gelato. Gusto caramello. Molto buono. Quindi noi proviamo. E ora salutiamo Hogwarts e continuiamo la nostra avventura nel centro di Londra. Come vedete Harry Potter non ci abbandona mai. E ora siamo finiti a Piccadilly Circus e non troviamo niente da mangiare. Siamo in missione per la cena. Sono infatti le 21 e 30 e provare a mangiare qualcosa in un pub di Londra quest'ora è davvero molto difficile. Ne approfittiamo però per fare un piccolo tour a Chinatown, davvero molto suggestiva. E poi scopriamo questo pub che ha un albero secolare al suo interno. Perfetto per una bevuta ma dopo le 21 non servono da mangiare. Alla fine abbiamo ripiegato di nuovo su Five Guys perché siamo andati alla cena e era tutto fuso. Che tristezza. Troppo tardi. Dopo cena andiamo a dormire perché il giorno dopo vogliamo alzarci di buon'ora per andare a visitare un altro dei monumenti più iconici della città. Buongiorno ragazzi questa mattina siamo arrivati al Tower Bridge. Questo ponte sul Tamisi è relativamente recente perché è stato costruito a fine 1800, ma è davvero maestoso e sicuramente vale la visita. Noi abbiamo avuto anche la fortuna di vederlo in azione e guardate un po' cosa succede appena aprono i cancelli. E lo stesso vale anche per la parte pedonale. Ma avete mai sentito parlare di una spiaggetta segreta? Beh noi abbiamo attraversato il ponte per poterla raggiungere e dovrebbe trovarsi esattamente in questo punto. E niente ragazzi, missione fallita questa mattina perché c'è la camarea e quindi la spiaggetta famosissima non esiste. La vista comunque non è male, ma ora riattraversiamo il ponte per raggiungere la nostra seconda tappa. Da qui parte la fila che non è neanche troppa per entrare alla Torre di Londra. Ma purtroppo ci vuole troppo tempo per visitarla e noi ne abbiamo veramente poco. Quindi andremo a ricercare una chiesetta nazionista. Sto parlando di St. Dunstan in the East, un giardino molto suggestivo tra le rovine di un'antica chiesa. Si tratta di una location davvero particolare, ma vi consiglio di visitarla solamente se siete nei paraggi. Il nostro tour prosegue poi dall'altra parte della città perché stiamo per raggiungere uno dei centri commerciali più famosi di tutta Londra. Ma prima è tempo di fare colazione e anche questa volta abbiamo scelto un posto super goloso. Ed è anche completamente rosa. E ora sì che siamo pronte a esplorare il famoso Arrows, ma tenetevi forte perché i prezzi sono alquanto folli. Giusto per farvi capire, questa borsa di tela costa 45 sterline. In compenso gli orsetti sono carinissimi. Ormai però si è fatto tardi, quindi torniamo a Victoria Station per prendere il treno più navetta per raggiungere l'aeroporto. Se ti è piaciuto questo video lasciami un like e iscriviti al canale per scoprire nuove destinazioni di viaggio.